Oggi, unboxing! Mi hanno appena consegnato il pacco Reiko e ho pensato di aprirlo insieme a voi, così da vedere insieme i prodotti e farvi conoscere un po' meglio l'azienda. Apriamo! Bene, partiamo innanzitutto dal sacco più grande. Queste sono delle crocchette, si chiamano Champion, e sono delle crocchette pressate a freddo, quindi hanno tutte le caratteristiche delle crocchette pressate a freddo naturali al 100%. In particolare, questa tipologia di crocchetta ha una bellissima varietà proteica, perché oltre alla carne, nello specifico manzo e pollo, contiene anche il pesce, cioè la ringa, per un totale del 43% di carne già essiccata. Tra l'altro è una composizione che come carboidrato contiene solo ed esclusivamente il riso, tra l'altro nella sua versione integrale, ed è quindi completamente priva di glutine. La composizione è stata anche arricchita dalla particolare miscela di alghe caratteristica di Reiko per garantire un apporto completo dei sali minerali e anche dal lievito di birra essiccato, che è un ingrediente molto ricco di vitamina B e di prebiotici, che quindi aiutano tantissimo la flora intestinale dei nostri cani. Passiamo poi a questi altri due pacchettini. Si tratta di due masticativi, ovviamente nell'ordine non possono mai mancare i masticativi, in quanto sappiamo quanto la masticazione è importante. In questo caso si tratta di tendine di bovino e di carne essiccata. Sono due masticativi di facile consumazione, soprattutto il tendine di bovino. Io li utilizzo molto anche per metterli all'interno del Kong. Sono naturali al 100%, non solo per la composizione, perché ovviamente si tratta esclusivamente di tendine di bovino e di carne essiccata, ma proprio anche per la lavorazione, perché sono stati semplicemente essiccati all'aria. Quindi non contengono, non sono stati trattati con nessuna sostanza chimica. Sempre in ambito di snack, in quest'ordine ho anche preso qualche pacchettino di biscotti. In questo caso si tratta di biscotti allo struzzo. Hanno una dimensione piuttosto grande, più o meno quanto una noce. Io li utilizzo molto sia sbriciolati, da inserire appunto nel Kong, ma anche da offrire durante la giornata. In particolar modo li utilizzo la sera, prima di andare a dormire, con Pilar ho infatti il rituale del biscotto della buonanotte. Anche questi hanno tutte le caratteristiche di qualità di Reiko, quindi non solo sono sempre naturali al 100%, non contenendo appetizzanti, conservanti di origine sintetica, sostanze riempitive, ma hanno anche una composizione appropriata alla specie. Quindi anche in questo caso la carne è l'ingrediente principale. Questo è un aspetto a cui dobbiamo sempre prestare attenzione, anche quando si tratta di snack. Adesso arriviamo ai pezzi forti di quest'ordine. Si tratta di due integratori che stavo aspettando con trepidazione, anche perché sono due integratori proprio nuovi di quest'anno, due prodotti nuovi di Reiko. Il primo è un integratore che in realtà utilizzo già da qualche mese e si tratta della Aufbau Vital Plus. È un integratore particolarmente adatto ai cuccioli in fase di crescita, fino al raggiungimento della pubertà, ai cani anziani e ai cani adulti quando vivono un momento di difficoltà, quindi per esempio dopo un intervento. È infatti un integratore molto ricco di nutrienti, di vitamine, minerali, oligoelementi. Ti basti pensare che tra i suoi ingredienti ci sono per esempio i semi di lino, che sono tra gli ingredienti più ricchi di acidi grassi essenziali, omega 3, omega 6, che supportano il sistema immunitario dei nostri animali. C'è poi il fieno greco, la rosa canina, che è molto ricca di vitamina C e anche lei ha proprio delle proprietà volte a sostenere il sistema immunitario e poi ovviamente non possono mancare le alghe. Io lo utilizzo in maniera quotidiana, lo offro quotidianamente a Pilar, che ormai è diventata una cagnolina a saggia e quindi ha bisogno di un supporto un po' più strong. Infine il Pro 5. Questo è veramente un integratore che stavo aspettando da tanto tempo, perché si tratta di un integratore che è volto proprio a sostenere il microbiota intestinale. Come forse sai, il microbiota intestinale è qualcosa di molto più ampio e complesso della semplice flora batterica intestinale. È qualcosa che veramente va a garantire il benessere dell'organismo a 360 gradi. Questo integratore ha tutte le caratteristiche per svolgere a pieno questa funzione in quanto è un integratore ricco di probiotici, che sono dei microorganismi che hanno la capacità di arrivare vivi all'interno dello stomaco dei nostri cani, quindi sopravvivono al pH dello stomaco e arrivano vivi nello stomaco e nell'intestino. E quindi riescono veramente a svolgere un'importante funzione, una funzione che è anche antipatogena, nel senso che riescono anche a contrastare l'azione dei microorganismi cattivi. È quindi un integratore che veramente si presta a tantissimi utilizzi. Si può utilizzare quando il cane ha episodi di diarrea, proprio perché va a contrastare i batteri cattivi. Si può utilizzare nel cambio cibo, perché va a sostenere comunque anche la flora batterica intestinale dei nostri cani e garantisce una migliore assimilazione del cibo. O si può utilizzare anche semplicemente durante l'anno per aiutare i cani nei momenti in cui sono un pochino più in difficoltà, come i cambi di stagione. Insomma, è un prodotto che da adesso in avanti non mancherà mai in casa, proprio perché può essere veramente utilizzato in tantissime situazioni. Siamo arrivati alla fine di questo unboxing. Spero che le informazioni su questi prodotti ti siano state utili. Ti ricordo che io sono consulente alimentare Reiko, quindi se desideri maggiori informazioni sull'azienda o su come acquistare i prodotti, trovi tutte le informazioni in descrizione, sia per visualizzare il catalogo, sia per prendere contatti direttamente con me e avere una consulenza gratuita. Se il video è stato di tuo interesse, lascia un like e ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e non perdere i prossimi contenuti. Grazie. 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 Grazie.